Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal web. Oggi si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e credo sia forse anche l'ultima. Oggi, infatti, in studio si è registrata la scelta di Veronica Rimondi. Il percorso di Veronica Rimondi, breve ma intenso, nello studio di Uomini e Donne, ha catturato molto l'attenzione del pubblico a casa, grazie anche alla rivalità che si è creata tra i corteggiatori della stessa, ossia Matteo Farnea e Andrea della Cioppa. Alla fine, la donna con chi ha deciso di uscire dal programma? Ecco che vi riveliamo chi ha scelto Veronica. La sua scelta è ricaduta su Matteo, etichettato come suo storico corteggiatore, essendo stato colui che le ha fatto la corte da più tempo. Insomma, dalla serie, chi la dura la vince. Invece, per il povero Andrea, nonostante gli ottimi segnali avuti dall'atronista direggiante, c'è stato un due di picche. Tra di loro è rimasto un feeling, ma non c'è nulla che a Veronica lo attrae, se non altro, la sua fisicità. Matteo gli ha risposto un bel sì e il tutto si è inconcluso con un dolce bacio e petali rossi per la coppia, così, proprio come ieri, Luca Salatino ha scelto la sua Soraya. Questo e tanto altro nella registrazione di oggi. Vi raccomando, continuate a seguirmi, perché solo così non vi perderete questo, ma nessun altro prossimo video. Grazie. Grazie. Grazie.